Cari amici, guardate un po' qua che rissa la camera. Il deputato dei 5 Stelle Donno si avvicina a Calderoli con una bandiera a quanto pare e viene presto accerchiato ed aggredito. Sotto accusa è finito il leghista Yezzi che si vede in qualche modo cercare di colpirlo con dei pugni. Donno verrà poi portato via per accertamenti medici ma diciamo veramente che è uno spettacolo indecente. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere. Ciao! Grazie a tutti!